È stata una vigila infuocata anche perché Puccino, il difensore del Bari, ha detto che lui si ricorda, insomma, della sua esperienza a Salerno, dell'Avellino quasi non si ricorda più. E beh, caro Puccino, vorrei dirti che noi invece ti ricordiamo, ma ti ricordiamo per essere stato uno dei peggiori difensori mai visti al Partenio. Anche se devo ammettere che adesso sei un pochino migliorato. Questo distacco di nuovi punti che, sinceramente, ieri sera non si è assolutamente visto. Cioè, l'Avellino ha dimostrato di non essere inferiore al Bari. Può giocarsela. Può giocarsela. Può giocarsela. Può giocarsela.